E' arrivata nel primo pomeriggio di oggi l'ufficializzazione di quanto già anticipato lunedì all'interno di Overtime del lunedì. Il Riccione ha esonerato Nevio Valdifiori, il burrascoso dopo partita di San Nicolò. E' stato l'ennesimo scontro che nelle ultime settimane aveva caratterizzato il rapporto tra guida tecnica e società. Al termine di un acceso confronto dove la società ha chiesto spiegazioni per la prova in colore di termo, sarebbe stato lo stesso Valdifiori ad invitare la società ad una riflessione sul suo futuro. Una dichiarazione colta al volo da Batani e ritenuta una rinuncia all'incarico, insomma delle vere e proprie dimissioni. Dopo qualche ora Valdifiori avrebbe tentato di ricucire, ma Batani è rimasto sui suoi passi e nel pomeriggio di oggi è arrivato lo scarno comunicato che rende ufficiale l'esonero da parte della società del tecnico. Bagnolini sembra condividere la linea Batani, dichiarando il presidente ha ricevuto una risposta ben chiara ed è giusto che prenda le sue decisioni, soprattutto dopo una prova come quella con il San Nicolò. L'allenamento di oggi, diretto da Freschi, l'allenatore della Juniors, è già mister della prima squadra lo scorso anno, è il primo di una settimana piuttosto delicata, con tutta la squadra sotto esame. Cominciano intanto a circolare i primi nomi sui possibili sostituti. Luca Fusi in prima fila, più difficile l'accordo con l'emergente Domeniconi, possibile anche una conferma di Freschi con il ritorno di Angeloni, ma da capire se potrà andare d'accordo con Bagnolini. Improbabile una promozione a mister di buono core, mentre tra i papabili potrebbe esserci anche Santarini. E intanto è voce sempre più concreta quella di un ingresso in società da parte di Giorgio Screpis, sia come direttore sportivo che come direttore generale, ma questa è un'altra storia.